Un libro in tre minuti, vicini alla terra di Silvia Balestra, edito da Giunti. Marche, Umbria e Lazio sono loro le regioni colpite dal terremoto, tanto da quello del 24 agosto 2016 quanto da quello del 30 ottobre 2016, quando alle 7.40 del mattino la terra ha iniziato a tremare e la scossa ha raggiunto magnitudo 6.5. Un centro Italia stretto nella morsa dell'angoscia, abbiamo pianto 299 vittime, la terra continua a tremare e chissà quando potremo parlare davvero di nuova vita per tutti quei paesi che ormai non esistono più. A sei mesi di distanza dalla tragedia del terremoto si deve, bisogna, continuare a parlare del terremoto e la scrittrice di origini marchigiane Silvia Balestra lo fa attraverso un instant book dal titolo sicuramente evocativo, Vicini alla Terra, un libro che è un commosso e coraggioso omaggio a quel pezzo bellissimo d'Italia ormai ferito, un commosso e coraggioso omaggio a tutti i suoi abitanti, umani e nonni. Sì, perché Vicini alla Terra parla di storie, storie di animali che sono stati salvati, che non sono stati dimenticati in questa tragedia del terremoto, parla di storie di animali che purtroppo non ce l'hanno fatta e parla delle storie degli uomini che non si sono dimenticati di loro quando tutto ha iniziato a tremare. Perché questo romanzo, il reportage, parla anche di un ente importantissimo, l'EMPA, l'ente nazionale protezione animali che a partire da quell'agosto 2016, da quel maledetto 24 agosto, è sceso sul campo e ha iniziato l'operazione di recupero e di salvataggio di tutti quegli animali che sono il cuore pulsante dell'appennino. Non parliamo soltanto di cani e di gatti, di tutti quegli animali domestici che lo dice la parola stessa, come scrive Silvia Ballestra, sanno di casa, sono un ricordo, sono compagnia per tutte quelle persone che purtroppo una casa ormai non ce l'hanno più. Si parla anche di altri animali, le mucche, le galline, i cavalli, le pecore, tutti quegli animali che costituiscono un'importantissima, fondamentale risorsa per l'economia dell'Italia centrale, un'Italia centrale che vive soprattutto di agricoltura e di allevamento. Ebbene, vicino alla terra, come vedete, non è soltanto un commosso, come dicevo prima, e coraggioso omaggio a questa parte di Italia ferita, ma è anche una presa di coscienza della situazione italiana, della lentezza burocratica e statale a cui dobbiamo assistere. Silvia Ballestra, che ho recentemente intervistato per Il Messaggero, dice proprio questo, la macchina pachidermica dello Stato non permette una ricostruzione subitanea laddove invece non possiamo permetterci questo tipo di lentezza. Bisogna ricostruire subito e bene, anche se la ricostruzione è un fatto assolutamente nuovo, continua l'autrice per noi in questo caso. Ma vicini alla terra è anche un modo per avvicinarsi a tutti coloro che questa parte d'Italia non la conoscono bene, per avvicinare tutti quelli che delle Marche, dell'Umbria e del Lazio sanno poco ed è un modo per parlare ai giovani, anche a tutti quei giovani che sono stati colpiti da questa tragedia. Bisogna ripartire da loro, loro sono il nostro futuro, le scuole sono il nostro futuro, dice Silvia Ballestra. È per questo che i diritti d'autore di Vicini alla Terra saranno interamente sotto forma di materiale scolastico devoluti e donati alle scuole dei centri colpiti dal terremoto. Dunque non mi resta che augurarvi un'attenta e commossa lettura di Vicini alla Terra di Silvia Ballestra.